dottore Militello si prego presidente possiamo richiamare l'appello è trascorsa i 60 minuti quindi possiamo richiamare l'appello Castiglia Nicolao Presidente Imperiale Pitarresi Randazzo Sorci Tramuto Valenti Venturella Presidente è presente solo lei posta data l'insufficienza del numero legale così come dal regolamento la seduta slitta al giorno successivo senza avviso per i consiglieri pertanto chiedo al dottore Militello di interrompere la registrazione grazie e una buona giornata